Sì, ma guarda il canale del Draghi Ma e tu cosa ne pensi della PP? Ti è mai capitato di includerla in un tuo rapporto sessuale? Spessissimo, spessissimo Ma io, raga, dovete capire una cosa, tipo Cioè, io sono totalmente aperto a qualsiasi tipo di cosa Cioè, non giudico niente, mi va bene tutto Purché ci sia... Passione Rispetto e consenso, capito? Dal momento in cui ci si rispetta, è una cosa che piace A me va bene tutto Mi va bene tutto Ho dei limiti, ma non perché sono una cosa che non tollero Ma perché, tipo... Cioè, ho un po' una fobia Io ho la fobia del vomito e del sangue Faccio molta fatica a vedere Ma della merda no? No, la merda no Anzi, mi è successo più volte Ma te sei fatto cagare addosso? Sì, 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 mi è successo Ma veramente? Sì, giuro Allora, più volte mi è successo il Mikado Quindi quando metti e poi togli che c'è il regalino E però è normale Vabbè, sì, è il Mikado, è il Mikado Sì, c'è stato E poi una volta stavo in Mikado Ed ero talmente arrapato Che c'è stato poi il... Anche tipo proprio la richiesta esplicita di continuare Quindi... Non fatelo andare avanti, vi prego Che c'è una roba molto... Ti voglio dire Cioè poi mi piace un po' che cose Però sono anche io aperto Alla cacca forse magari no Ero Freebooter 2 Ti seguo Bomba comunque Grazie Del supporto Alla cacca Alla cacca